Dopo avervi mostrato le mie build, dopo aver visto insieme le build del mio server, dopo essere stato scammato da un sacco di builder su Fiverr, è arrivato anche il momento di vedere i mondi degli iscritti. Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video. Ma che dico nuovo video? Possibile inizio di una nuova serie qui sul canale. Perché ragazzi, in questo momento mi trovo all'interno di un mondo di un iscritto, di uno di voi. Mi avete chiesto davvero un sacco di volte di fare una serie del genere, quindi eccoci qui a provare. L'idea è molto semplice, voi mi mandate i vostri mondi e io nel corso dei video entrerò nei vostri mondi e farò dei tour speciali che porteremo nel canale. Perché penso che dopo nove anni e mezzo di YouTube sia davvero una figata vedere anche che cosa ha creato la mia community, e oltre al mio server, che vi ho mostrato nel corso del tempo più e più volte, vedere se magari qualche trucchetto che ho insegnato nella serie Survival, qualche farm di cui ho portato il design è stata replicata, o seppure sarò io a prendere spunto da voi e imparare qualcosa. Quindi ragazzi, mentre qui sta tramontando il sole, così iniziamo i video di notte anche in questa serie, perfetto. Vi chiedo subito di supportare con un like se questa idea vi piace, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, ma soprattutto se volete far parte di questa serie, vi lascio in descrizione la mail dove potete mandare i vostri mondi e tutte le istruzioni da seguire per mandarli correttamente. E detto questo, facciamo subito un bel time set zero, io mi sono attivato subito i cheat che non erano attivi di base nel salvataggio, perché questo è un mondo survival di un iscritto, che non è solamente un iscritto qualsiasi, è anche un sub e un player del mio server dei sub, nonché uno dei builder che ha partecipato alla costruzione dello spawn del server. E come possiamo vedere a questo cartello siamo nel mondo di Jeff, che salutiamo perché è il primo che mi ha mandato un mondo ed è anche il primo su cui facciamo un video. Ah, e se vi chiedete come ha fatto a sapere e a mandarmi il mondo è perché ho un canale di news su Telegram che potete seguire tutti, dove già avevo anticipato e avevo chiesto di iniziare a mandarmi i mondi. Questo è l'inventario di Jeff, ci ha lasciato praticamente tutto, le sue armature rinominate, molto carini anche i nomi, cioppamamme, vabbè. Noi ci mettiamo in creative intanto, abbiamo anche un libro con alcuni punti di interesse. Canyon figo, sicuramente lo andremo a vedere. Nel Nether, le bellezze degli snapshot. Attenzione, ci sono un po' di farm da cui magari prendere anche spunto e c'è una farm di Witherrosm. Ed ecco qui il mondo visto dall'alto è davvero molto carino, si sviluppa tutto attorno a questa casa principale, ma c'è anche una casetta in costruzione laggiù. Ovviamente penso sia un mondo che sta venendo sviluppato nel tempo. E ragazzi, quel ponte sembra qualcosa di micidiale, andiamo subito a vederlo. Devo imparare anch'io a fare i ponti, ragazzi. Guardate che gran figata che è questo ponte. È pieno di grindstone appese su cui sono attaccate lanterne e catene, ma è molto ben dettagliato. E questo sentiero ci porta alla casa vera e propria. Eccola qui. Mi sa che questa casa nasconde qualche segreto sottoterra. Sono molto curioso all'interno di una serie del genere di vedere quanti di voi hanno una casetta normale, quanti di voi hanno una montagna come ho fatto io, o magari una base subacqua, che ne so. Ognuno avrà un proprio approccio alle basi e qui c'è un villager che è intrappolato, poraccio. Per onestà Jeff mi ha avvisato che il suo mondo è survival completamente, ma ha usato i comandi alcune volte, ad esempio per unire i villager, per avere più scambi in un villager solo, in modo da avere meno entità, o anche per givarsi ad esempio la sua testa e credo qualche item frame invisibile. E qui siamo all'interno, ragazzi, del magazzino. Quindi si parte dal magazzino, ovviamente è comodo averlo subito. Ecco, qui abbiamo un item frame invisibile, ad esempio. Un magazzino bello intenso, bello serrato, pieno di oggetti. Mi turba tantissimo, non so come orientarmi, sono abituato al mio magazzino che ha delle categorie prestabilite. Ma qui ad esempio c'è una chest tutta per il ferro e un barile tutto per l'oro. Quindi è tutto organizzato in maniera più suddivisa rispetto a quello che faccio io. Comunque, se andiamo al piano di sopra, dove c'è la casa vera e propria. Ed ecco qui la testa che mi aveva detto che si era preso, giustamente. E abbiamo anche l'enchant in table full funzionante, direi. Con un po' di dettagli flexini, tipo l'uovo del drago e la sua testa, che ovviamente simboleggiano la sconfitta del land, logicamente. E qui abbiamo altri magazzini con dei banner e delle cose a tema. Quindi praticamente questa è una stanza del telaio, dove si possono fare cose col telaio. Io non sono un grande utilizzatore di banner nel mio mondo e quindi non ho mai pensato di avere una stanza del genere, ma mi rendo conto che ha senso. Balconcino, ma anche ingresso secondario alla casa, direi. Continuiamo a salire di sopra, vediamo un po' che si nasconde. Che bello fare questi video con dei tour dei mondi senza dover aver speso soldi o venire scammati su Fiverr per una volta. È un po' di aria fresca, ragazzi. È una boccata d'aria fresca. Magazzino degli attrezzi. Guardate quante robine che ha. Ha luttato tantissimo. A volte mi sento inadeguato sugli oggetti, perché ne ho davvero pochissimi nel mio mondo. Quelli che avevo li ho consumati tutti. E c'è una mappa di un'isola dei funghi. E questa è la mappa della base, giustamente. Camera da letto, in cima a tutto, con uscita per l'elitra. Ma io ho notato che la casa aveva una scala che scendeva. Quindi andiamo a vedere se si estende nel sottosuolo. Anche se nella casa c'è tutto. Non è una casa con dei locali estetici, tipo la cucina, che poi non serve a niente. Però ha tutto quello che deve avere. Nel senso che ha il magazzino, ha il letto, insomma, le tavole da lavoro, eccetera, eccetera. C'è una sorta di magazzino secondario qua sotto. E credo l'ingresso, forse, a qualche farm. Più distante, qui abbiamo il portale del Nether. Dove entreremo, perché pare ci siano robe. E qui c'è la zona dei villager. Quindi una farm di villager. Eh, madonna, ma qui, ragazzi, è un carcere, praticamente. Pieno di villager. Ora capisco perché ho dovuto usare i comandi per unirne qualcuno. Ne ha davvero troppi. E fanno la gara assai tutti questi villager. Farmettine varie, giustamente, per avere cibo, avere oggetti utili. Quante verruche del Nether. Io ne ho davvero pochissime nel mio mondo. Anzi, le ho giusto messo ultimamente. Perché non le coltivavo da un sacco. Interessante. Ci sono tutte le farm. Però sono suddivise all'interno di una grotta reale. Non è una grotta custom. Per quanto in alcuni punti sia stata migliorata. È una vera grotta di Minecraft. Che è stata pian piano sistemata, illuminata e adibita a container per le farm. Interessante come approccio. Ma andiamo a vedere il canyon figo a meno 42. Ha praticamente preso un canyon di Minecraft e l'ha totalmente ritexturizzato. Una cosa che ho cercato di fare anch'io anni fa, ma non l'ho fatta assolutamente a questo livello. Bellissimo. Addentriamoci un po' nel canyon. Vediamo che cosa si nasconde. Credo che sia una build per lo più estetica. Ma potrebbe esserci qualcosina. Quindi vediamo. Comunque è stato tutto personalizzato fino in fondo. E c'è effettivamente una farm di che cosa? Andiamo a sbirciare. E c'è uno spawner di ragni, giustamente. Quindi è stato utilizzato per fare una farmettina. Top. E intanto, ragazzi, si è rifatta notte. Noi andiamo a vedere cosa c'è nel nether. Qua c'è anche un muro di rame che sta ossidando. Ovviamente ci vuole il suo tempo. E qui c'è un cane che fa da controllore. Non ha un nome però questo cane, ok. Ed eccoci nel nether. Il nether non penso che abbia nulla di incredibilmente estetico. Però dovremmo avere da vedere qualche farm. Ah, giustamente. L'acqua nel nether. Ragazzi, questo non è neanche un cheat, né nulla. È uno snapshot che avevo sfruttato anch'io. Eh, esatto. Il 21V03. Dove praticamente se tu mettevi i licheni all'interno della lava, nel nether, si tramutava in acqua per un errore gravissimo. E quindi anch'io nel mio nether ho una puzza d'acqua. E attenzione, perché questa sarebbe una farm di frog light. Come è possibile che sia una farm di frog light? Come fanno a spawnare i magma cube qua? Ci sono i magma cube che spawnano, no? Vanno dai golem. Ok, i golem li fanno a pezzetti. Quelli più piccoli cadono tra le catene. E giustamente le rane di vario tipo, quindi la portate tutte, se li mangiano e producono tutte le varie frog light. Gran figata sta farm, ma come ha fatto a portare a far spawnare i cosi qua sopra? Perché è uno dei biomi di basalto. E quindi se fai una piattaforma così, spawnano solo magma cube. Ragazzi, questa è una chicca interessante, eh. Non ci avevo pensato. Ed ecco qui invece il portale del land. Andiamo a vedere il land, che cosa succede qua sotto. Qui c'è una sorta di scala. Come funziona sta roba così? Ok. Ha due leve. Che viene fatta con i pistoni. Quindi immagino per portare su e giù delle barche con dentro mob particolari tipo shulker e robe del genere. Quindi il land è stato usato per fare delle farmettine, probabilmente. Ed eccoci qui. Una farm di withers. Come funziona? Questa è una zona FK, palesemente. Quindi tu stai qui a FK e aspetti che le cose vengano prodotte. E qui ci sono gli enderman che attirati dall'endermite. Perché c'è una boss bar con scritto Leonardo? Che cosa sta succedendo? Ok, gli enderman cadono qua sotto dove c'è un wither. Oddio, intrappolato nel portale dell'end. Come è possibile fare sta cosa? Il wither sta attaccando gli enderman che, morendo, droppano sia enderpearl che un sacco di wither rose. Gran figata anche questa roba. È riuscito a intrappolare un wither utilizzando il land gateway, il portale del ritorno. Non ho idea di come abbia fatto a metterlo lì dentro, ma è intrappolato per sempre. Quindi è possibile imprigionare il wither. Non avrei mai detto in questo video di scoprire questa cosa, ma potremmo addirittura rifarlo. Ed eccoci tornati nel mondo reale, ragazzi. È stato un bellissimo tour. Fatemi sapere se vi è piaciuto. E nel caso, ragazzi, in descrizione vi lascio le istruzioni per mandare i vostri mondi. Se diventerà una serie, ne andremo a visitare tanti altri. Detto questo, io vi saluto. Ci vediamo stasera in live con una nuova serie horror insieme a TR in diretta alle 20.30. E domani con un nuovo video. Quindi, ragazzi, un saluto da Eren. Ciao a tutti!